Nel play-out di eccellenza Girone B la spunta il Gaeta sul minturno al termine di una partita sofferta, difficile, iniziata malissimo per i biancorossi che andavano sotto già al quarto minuto con un gran gol di Cenerelli che dalla destra infilava il portiere biancorosso Caso. Gaeta che ha avuto notevoli difficoltà nel cercare di superare la difesa rosso-blu che si attestava tutta sulla linea dei 16 metri, pochi cross, il Gaeta provava a sfondare soprattutto centralmente ma ogni iniziativa si infrangeva sulla retroguardia della squadra di mister Pernice che aveva sicuramente attrezzato un bunker quasi inviolabile. Il compito della squadra di mister Melchion si rendeva un po' più facile all'inizio della ripresa quando proprio il figlio del mister Pernice con un fallo di reazione incredibile si faceva cacciare dall'arbitro della contesa. Minturno che restava in dieci uomini ma resisteva quasi fino all'ottantesimo quando soltanto una prudezza di Pepe che dialogava con Repucci e poi dal limite dell'aria scaricava un preciso tiro all'incrocio dei pali. Fino a quel momento lì il Minturno aveva tenuto il suo fortino e poi invece con questo gol succedeva poi di tutto nella parte finale quando il Gaeta riusciva anche a trovare con un autogol su calcio di punizione la rete del 2-1. Quindi una salvezza sofferta come del resto era prevedibile, un Minturno che fino all'ultimo istante non si è arreso e soprattutto una grande cornice finalmente anche di pubblico al campo di Monte San Biagio ha fatto da contorno a questa salvezza. Ovviamente adesso si aspettano le decisioni relativamente a un possibile ripescaggio dei Rosso-Blu proprio come successe due anni fa con il Monte San Giovanni Campano. Una salvezza che il Minturno meriterebbe per come ha interpretato la partita e tutta la stagione. Una squadra che ha avuto notevoli difficoltà nel gestire una rosa di giocatori che sono andati via quasi tutti a dicembre come del resto è successo anche per il Gaeta. Due squadre che hanno avuto una stagione molto travagliata, finisce bene per il Gaeta, male per il Minturno ma il nostro augurio da sportivi e soprattutto per una squadra del golf è quello che il Minturno possa continuare a giocare anche l'anno prossimo in eccellenza laziale. L'ultima notazione è che allo stadio di Monte San Biagio c'era anche Andrea Scipione, il calciatore del Formia al quale è stato dedicato dagli Ultras del Gaeta uno striscione. Sarà molto lunga la strada del recupero per Andrea se il recupero ci sarà. Certo è chiaro e evidente che speravamo tutti di vederlo in campo, così non è per il momento ma il nostro augurio va a una ripresa, soprattutto per la sua vita di tutti i giorni ad Andrea Scipione che oggi appunto ha fatto da spettatore al match. È tutto dunque per questo campionato che termina con il Ciampino promosso in Serie D, l'anzio ai playoff nazionali per cercare di approdare in Serie D e il Gaeta che fa retrocedere il Minturno insieme a Nettuno, Lariano e Palestrina. Questo è il verdetto di una stagione lunga, una stagione sofferta che speriamo il Gaeta non debba ripetere l'anno prossimo e speriamo soprattutto che possa giocare allo stadio Riciniello. Un saluto a tutti i radioascoltatori, termina un'altra stagione, Erasmo Lombardi saluta tutti e vi dà appuntamento all'anno prossimo per la stagione 2016-2017 del campionato di eccellenza.